Ciao a tutti! Bastardone! Ah, ok. Oggi siamo qui... Vaporart Shinobi Revenge Ice! Ice! Allora ragazzi, Vaporart fa uscire una versione Ice dello Shinobi Revenge. Revenge! Innanzitutto mi sono un attimo preoccupato perché lo Shinobi Revenge è uno dei miei liquidi preferiti, quello con ninja rosso. Rosso. Perché praticamente alla ricetta del classico Shinobi ci avevano aggiunto un tocco di custard. Sì, mi ricordo. Quindi c'era e la pesca, fico d'india, zucchero di canna, lime, una punta di lime e appunto nel Revenge gli avevano aggiunto la pesca e una punta di custard. E per me è stato uno dei liquidi migliori in assoluto perché ancora tutt'oggi ogni tanto me lo compro e me lo svampo. Io intanto nasco. Quando ho visto l'Ice ho detto, sapete come siamo allergici noi agli ice? Poi è buono, eh. Al naso tanta roba. Va bene, vai, tiralo, anello. Drag, 40,020. Bomba. 50 Watt. Bomba. E lì come faccio? Vabbè, metto dentro questo. Com'è? Eh. Buono. Sarebbe stato un 9 ma... Allora, devo dire che appena ho visto Ice mi si sono raddrizzati i peli sulle braccia. Però devo dire che hanno fatto un bel lavoro, hanno fatto un grandissimo lavoro perché gli hanno aggiunto giusto quella punta di Ice per renderlo fresco ma rimane lo Shinobi Revenge. sa, sai cosa sa, per me, mi ricorda tantissimo un tipo di Big Bubble che andavo fuori di testa, quelle forse tropicali, non so. Mi dà quella sensazione lì, ma probabilmente è buono, anche la castarda aiuta, tutto questo gusto eccellente. E' buonissimo. E' buono, 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 buono. E' proprio buonissimo. Eh, c'è l'ice però. Devo dire che nella Drag tutto sommato si sente moderatamente o comunque non hanno aggiunto troppo Ice nella ricetta dello Shinobi Revenge. Devo dire che il liquido è proprio buono. Io ancora quest'inverno ne ho comprate tre bocce e mi sono svuopate tre bocce. Buono, buonissimo. Del Revenge classico. Buonissimo, mi sento un po' in difficoltà perché il liquido comunque è fantastico. Però c'è, non ce n'è neanche poco di Ice. Adesso. A mio giudizio ci sta, per il caldo che fa adesso ci sta. Io concepisco di più l'ice che hanno messo qua dentro rispetto all'ice dei Vaporice. Che avete visto. Quindi io con questo Ice, valutando il liquido che è veramente buono, io gli darei otto, però gli do sette. Perché c'è l'ice, se non c'era l'ice ovviamente era nove, nove e passa, ok? Io gli do nove. Gli do nove comunque perché a me questo liquido mi è sempre piaciuto, ne sono sempre andato in atto. E devo dire che anche con l'ice hanno comunque, non hanno rovinato il liquido e non hanno stravolto la ricetta dello Shinobi Revenge. Hanno aggiunto dell'ice. Hanno aggiunto l'ice in forma, in una forma corretta. Va bene, quindi questo ve lo consiglio veramente tanto. Provatelo, diteci qualcosa sotto nei commenti se volete, sempre se volete. Se volete. Quindi vi ringraziamo, ringraziamo Vaporart. Con l'ultima zoppata mia. Sempre nell'obiettivo, se ci arrivo. Se ci arriva. E ci vediamo al prossimo video. Va bene, ciao. Ora, a vedere. Grazie.